Noi chi governa le istituzioni, chi rappresenta, diciamo, quindi mi riferisco esclusivamente alle istituzioni, perché posso parlare ovviamente per il mio campo di azione, ogni comportamento deve essere finalizzato a trasmettere un messaggio vero e serio alla nostra cittadinanza, alle nostre imprese, ai nostri figli, ai nostri giovani e devo dire che oggi è stato anche riportato bene sul messaggero il mio appello a un richiamo forte e serio di tutti i consiglieri regionali a svolgere il proprio ruolo nel rispetto delle regole, ma soprattutto nel rispetto di un impegno che è stato sottoscritto con gli elettori, perché qui spesso accade anche in consiglio regionale che alcuni consiglieri vengono, firmano, si prendono la diaria e vanno via, non svolgono il proprio ruolo, il proprio mestiere e soprattutto non adempiano i propri doveri, perché è un dovere essere presente in aula e garantire non solo la presenza, ma un lavoro costante per lo sviluppo del territorio. Quindi questo atteggiamento rappresenta ovviamente un cattivo esempio per i nostri giovani e per le nostre generazioni. Viceversa, un comportamento sempre corretto rappresenta ovviamente lo specchio reale della nostra società. Ecco, il tasso di disoccupazione giovanile ormai sfiora intorno al 29%, e proprio i dati Istat ci dicono che il 50% di questo 29% ormai ha smesso di trovare il lavoro. Forse non pensi che sia anche un po' una sfiducia dei giovani di dire ok, io sono qui, che magari mi preparo, faccio la mia gavetta, mando il mio curriculum, ma poi alla fine c'è sempre qualcuno che in qualche modo va prima di me? Ma insomma nella vita, ragazzi, bisogna, no, 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 non bisogna accontentarsi, bisogna combattere, diverso. Non bisogna accontentarsi, bisogna provare e riprovare, bisogna essere, diciamo, tenaci, bisogna crederci fino in fondo. E' chiaro che viviamo un momento di crisi molto profonda, quindi una crisi che sta mettendo a dura prova il mercato mondiale, anche il nostro mercato regionale e provinciale. Però noi siamo convinti di potercela fare. Noi come Regione Lazio abbiamo messo in atto degli strumenti importanti per consentire, diciamo, la ripresa della nostra economia attraverso il piano casa, attraverso il piano triennale del turismo, attraverso il rafforzamento dei nostri poli industriali, perché noi abbiamo il compito, il dovere, di creare le condizioni per sviluppare il lavoro nel nostro territorio. Questo è il compito della politica e non solo di firmare e di andare via portandosi a casa magari le 200 euro senza dare nessun contributo necessario alla nostra società. Quindi noi vogliamo lavorare in questa direzione e abbiamo messo in campo strumenti molto importanti ed efficaci per ottenere un risultato ovviamente per i giovani della Regione Lazio. Ecco, altre due domande e poi ti lasciamo andare. Sì, una domanda pure breve a proposito di quello che appena ho detto, perché pure io ho visto un attimo il documento del piano triennale per lo sviluppo delle politiche giovanili e tra gli altri punti ci sta pure lo sviluppo della retta in forma giovani, che secondo me è molto importante perché appunto se stiamo parlando pure delle azioni concrete e della diffusione dei valori della meritocrazia ci devono essere pure le istituzioni che lo faranno. Allora, io sono di Cassino e volevo chiedere una cosa molto concreta. Perché a Cassino non c'è l'ufficio in forma giovani? Ai 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 ai, gioiamo in casa e non c'è? Beh, voglio dire, se non c'è ci organizzeremo per metterlo, quindi faremo in modo di mettere questi uffici anche a Cassino, però insomma questi uffici dovrebbero essere già presenti sul territorio, però è chiaro che ci sono anche, diciamo, territori sprovvisti. Onestamente non conosco la mappatura di questi uffici, però mi attiverò per risolvere questo problema e questa giusta richiesta che mi viene rivolta da un giovane. Una domanda concreta. Per le università invece, cioè a livello, io parlo della mia, della Sapienza, quali sono le attività, i progetti oppure le collaborazioni che la Regione Lazio ha intrapreso in questo periodo o che tenderà di intraprendere? Perché le spiego, spesso e volentieri ci troviamo con delle università dove noi finanziamo l'università, quindi c'è il pagamento di una retta via via nel corso dell'anno, ma poi a questo finanziamento non c'è mai il ritorno, cioè si paga ma il servizio non c'è. Lei parlava di informa giovani, di un ufficio che per me aumenta soltanto burocrazia e poi non serve a nulla. Però io vorrei parlare in concreto, nelle università c'è il fondo però poi non ci sono i servizi adatti ai ragazzi. L'intervento della Regione dove può arrivare? L'intervento della Regione innanzitutto è valutare senza entrare nello specifico perché è chiaro che non posso essere un tuttologo, quindi conoscere tutti i progetti della nostra Regione. Scusi, però l'Università della Sapienza non è sapere un tuttologo, è il l'occhiello dovrebbe essere, no? Buono, buono, aspetta, lasciamo rispondere. Certo, certo, quindi lei conosce tutti i progetti della nostra Regione, quindi noi finanziamo i progetti che ci vengono così sollecitati e richiesti, è chiaro che i progetti stessi vengono monitorati dalla Regione e quindi attraverso un rendiconto vengono così liquidati, quindi se c'è un rendiconto evidentemente c'è un'attività didattica all'interno dell'Università e di questi progetti che vengono finanziati. È chiaro che poi ci può essere chiaramente sempre il non ritorno del risultato, ma certamente questo è addebitabile a chi poi fa il controllo in merito a questi progetti. Allora Presidente, io ti ringrazio. Mi riferivo a, cioè ci tengo a chiarire questa... No, possiamo anche continuare la chiacchierata. No, 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 questa posizione perché chiaramente da Presidente del Consiglio regionale del Lazio non mi occupo specificatamente di tutti i progetti, ecco perché le dicevo questo, non per voler così evitare la risposta, perché come Presidente dell'Assemblea legislativa ho un compito totalmente diverso, cioè quello di curare, sviluppare, organizzare la gestione dell'Aula e ottenere risultati importanti per la politica di sviluppo del nostro territorio. E poi i progetti specifici vengono demandati direttamente alla Giunta e all'assessorato di riferimento, ecco quindi solo per questo. Noi ti ringraziamo per averci dedicato questo tempo, speriamo di averti presto di nuovo in nostra trasmissione. Grazie. 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 Grazie.